Canaia, allora, lo si sciogli, eh, quei posti sono pronti! Sto qui con Alessandro, ci sono i cani che vanno fermo, cerco di portartelo. Comunque posta attenzione che si mosso, eh! Sotto l'altra pianta, lì sotto, dove c'è adesso? E' lì! Provati l'occhi in sasso per farlo partire! Vado più in là, vado al ponte io! Eccoli, eccoli! Eccoli, Gatti! Eccoli! Eccoli!